A Roma temono che quando sarà spostata la statua di Marco Tarelio sul Campidoglio la città eterna e con essa il mondo finisca, cioè siamo in tempo di millenarismo, di fine del mondo e la gente crede anche a queste cose. I lucchesi pensano che il protettore della città e di noi tutti sia l'arcangelo Michele che fa bella sfoggia in cima alla chiesa più bella di Lucca. Non vi preoccupate, all'arcangelo Michele non è successo nulla ma certo qualcosa stanotte è accaduto al campanile della chiesa marmorea ricostruita con i marmi del foro lucchese e dal cornicione più alto si sono staccate decine di centimetri di marmi che hanno battuto sul selciato, il selciato al centro di diverse polemiche per l'uso del mercato che per questo è stato spostato. I pezzi di marmo sono caduti sulla piazza con un sordo tonfo che ha svegliato anche diverse famiglie che erano allarmate, pensavano al terremoto. In effetti nei giorni precedenti ci sono state scosse più leggere che hanno interessato la Garfagnana e naturalmente qualcuno ha pensato anche alla crepa che si è aperta a Porta Elisa. Insomma, momenti difficili anche per i monumenti. Grazie a tutti.